Benvenuti all'Ocusaibar, saluto tutti e in particolare saluto Alessandro che so che mi sta guardando. Alessandro è un mio studente che ovviamente ha scoperto questo orrido segreto di professori. Tutti noi abbiamo degli scheletri nell'armadio. I miei scheletri ormai sono vecchi, sono scheletri etruschi, roba vecchia che ormai... Sì, anch'io degli scheletri, naturalmente scoprire che il proprio professore fa video su YouTube e parla di fumetti, non lo so, è una divincita spirituale o morale. Dottor Jekyll e Mister Hyde. Siamo tutti un po' Dottor Jekyll e Mister Hyde. Però il problema è che tra me e miei studenti c'è un gap generazionale che ci allontana come in questa storia di Nathan Neve, appunto il gap generazionale, che c'è appunto da Nathan Neve. Questa è una storia molto bella, nonostante anche miei studenti, faccio pubblicità della Bonelli ai giovani, io posso. È una storia molto bella di Bebi Ligna, disegno di Antonio Fara e Luciano Regazzoni, copertina giardo, bella. È ovviamente una storia di fantascienza, ma naturalmente è una storia comuna morale. I disegni della Bonelli sono a posta 4,40, ma Bonelli poi voglio, voglio, cosa voglio, niente, non voglio niente. Perché secondo me la Bonelli ha questo difetto, fa a volte delle storie molto belle, ma sono, cioè non riesce ad arrivare a un pubblico giovanile. Ora io per motivi di lavoro, ci lavoro al pubblico giovanile, è ovvio che ci lavoro perché, quindi non riesce, secondo me, questo che è, perché non riesce a parlare ai giovani, cioè parla bene ai vecchi, ai 50, cioè che hanno questi vecchiacci, da quali mi ci metto anch'io, che rompono le scatole col ballone da cosi, con tutta Roma degli anni 70. Professor Venturini. Una scatola misteriosa. Ovviamente ho la stessa impressione che ci siano dei fantasmi in casa, ma questo, io credo. ho, dicevo, che è più generoso, quindi non, storie belle come queste, in teoria potrebbero piacere anche a dei ragazzi, la Bonelli non le pubblicizzano, non lo so, cioè ha questa cosa che non riesce a comunicare con i giovani. Secondo me è un peccato, questa è una storia che, disegnata bene, una storia avvincente, è una storia che merita, cioè questo ragazzo di 12-13 anni non ha anche problemi, insomma, a leggere. Naturalmente deve sapere chi è nato, anche se non sa chi è nato a Nero, qui, insomma, non è importante, perché questa è una storia, diciamo, a sé stante, di cui nato a Nero, il protagonista, è stato, qui rimanda molto a Aldous Huxley, Brave New World, Ritorno al mondo nuovo, una sorta di distopia, distopia è un'utopia alla rovescia, un'utopia negativa in cui apparentemente va tutto bene, mentre il 1984 di Orbe è un'utopia ovviamente negativa, distopia, nel senso che è un mondo futuro, molto incentrato su sta, cioè, sull'Unione Sovietica, Brave New World è un mondo stile americano, dove apparentemente siamo tutti liberi, ma poi ciccia e riciccia non c'è nulla di libero, anche qui in questo, cioè Nathan Never viene sfuggendo a, vabbè, Mr. Alpha, tutta una storia prima, che lo insegue, si fa ibernare o qualcosa di simile, viene spedito, boh, 4, 5 mila anni, 500 anni dopo, qualcosa di simile, insomma, e ovviamente viene recuperato, ormai vecchiarello, vecchiarello, e si trova in questo nuovo mondo, dove, vabbè, sono bandite le emozioni, non c'è la letteratura, eccetera, eccetera, quindi è una storia con una morale, nel senso che poi, della Nathan Never, si sente ovviamente come il selvaggio in Brave New World, si trova a disagio in questo mondo, insomma, privo di emozioni, alla fine non vi spunturiamo, nel senso perché, ovviamente rimanda alle capsule del tempo, le capsule del tempo che venivano anche, sono state in parte sepolte, in parte inviate nello spazio, ovviamente con oggetti, prima degli anni Ottanta, rappresentativi degli anni Ottanta, e quindi si sente negli anni Ottanta, ci hanno messo una cassetta di videoregistrazione, dei dischi, che hanno messo i Beatles, questa roba qui, le capsule del tempo, sì, le capsule del tempo, che vanno anche spedite nello spazio, quindi è un po' Beppi Vigna, rimanda a tutto questo, e ovviamente ci delizia con una storia veramente carina, ora io non uso l'espressione capolavoro, perché capolavoro è per me una categoria alta dello spirito, nel senso che, però è una storia molto bella, molto, per esempio questo, per esempio il fatto che in questo Brave New World non c'è la riproduzione come ora, ma avvengono tramite clonazione genetica, se qualcuno ricorda Brave New World, in Brave New World è molto più crudele, nel senso che venivano divisi gli uomini in una sorta di casta inghiani, gli alfabeti, gamma e delta, e i delta venivano messi nell'alcol, nella soluzione prenatale, venivano creati degli, insomma, dei forti problemi psichici che venivano messi a lavori più uomini, e tutte queste, e ovviamente come in Brave New World non c'è la vecchiaia, sono vecchio, che dice una barba bianca, ma anche in Brave New World, se vi ricordate il libro, ci fa anche un film, ci ho visto anche un film di Brave New World, ma non mi ricordo, che Brave New World è questo, perché appunto nel mondo nuovo non ci sono i figli, anzi c'è tutto un gioco sul tabù, vabbè, è tutta una cosa che ora, magari un giorno ne parliamo di Brave New World, ma che secondo me è una distopia forse la più azzeccata di Aldous Hacks, è una distopia più terrificante, pure nella sua apparente bellezza, un mondo da cui hanno levato poesia, letteratura, arte, hanno levato tutto, e dove tutti vivono in una libertà sessuale, completa, che sostituisce tutto il resto, ma tutto il pensiero, lo spirito, è stato tutto annullato. Quindi la pornografia, in Brave New World è leggere un libro, che ne so, di Tostoi, quella è pornografia, mentre ovviamente c'è tutto un gioco come Buñuel nel fascino di scritto la poesia, cioè il tabù all'incontrare, oggi, se guardi una donna nuda, è tabù, ma nel Brave New World è tabù a leggere una poesia, quindi scrivere poesie è considerato pornografico. e dicevo, anche questo qui, secondo Baby Vigna, anche qui non c'è la vecchiaia, nel senso che arrivati alla fine del ciclo, insomma, si muore giovane, si rimane come la canzone di Alfa Wiff, la forever young, vorresti essere giovane? Boh, non lo so, io forse ho anche piacere di invecchiare, quindi anche Nathan Never verrà sottoposto a questo procediment, di ringiolevanimento, e belli disegni, disegni sono veramente stipendi, e ovviamente scopriremo, questo è Nathan Never, stile bronze, stile boh, fratelli del bronze, e non vi dico di più, perché se no vi rovino la lettura, però è una storia che merita di essere letta, la straconsiglio caldamente, ultimamente ho visto, ho visto un video anche di Duki, Duki Duki, su se è senso fare recensione o meno, ma io le faccio, nel senso, io non so recensioni, nel senso che, se sono cacchierate, io leggo un fumetto, e come se siamo Kusai Bar, se siamo non bar, dico ho letto sto fumetto, mi è piaciuto, basta, cioè voglio dire, non è che non sono pagato della bonendia, non ci pensano nemmeno alla bonendia a pagarmi, perché gli si è mai passato per l'anticapia del cervello, e fanno bene giustamente, però voglio dire, sono cacchierati a bar, quindi è ovvio che, a che senso ha, non è che questa è la mia recensione, di Natanera, che salva il mondo, e fa fermare la guerra in Ucraina, ma è ovvio che, qualsiasi cosa, che tratti dello spirito, dell'arte, anche del fumetto, che è arte, e letteratura, secondo me ha un senso farla, nel senso, quindi poi, ovviamente c'è chi non le vuole fare, ma nel senso, io credo che ognuno ha un suo canale, faccio un po' quello che gli pare, nel senso, io ero parlato di scuola, non c'è niente con fumetti, però voglio dire, il mio è il canale mio, quindi, ci fa quello che mi pare a me, ognuno nel suo canale, fa quello che gli pare a lui, e così va bene il mondo, nel senso, che poi sia una cosa superata o meno, non lo so, e come dire, a scuola, le spiegazioni sono superate, sì, solo superate, in parte sì, nel senso, in parte, però, 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 però c'è sempre un però, quindi, però, nel senso, se uno ti spiega davanti a Boccaccio e Petrarca, e te lo spiega, come io, cioè, io credo, alcuni argomenti li avrei studiati, poi, naturalmente, non so se li so esporre, come vorrei esporli, però voglio dire, se uno ti apre qualche punto di vista nuovo, su un poeta, un autore, credo che sia importante, lo stesso vale per un fumetto, poi, uno può farlo, non farlo, questo ognuno fa come cavolo gli pare, nel senso, però questa è una storia, tornando a bomba, disegnata bene, anche l'impaginazione non è scontata, vedete, Nathan Never, c'è un'impaginazione un pochino meno, 6, 2, 4, 6, nel senso, un po' meno, più meno, come anche Nathan Never, c'è le 2, 4, 6 a volte, no, ma, sì, comunque, sì, però, lo sapete, c'è, l'impaginazione, però, un po' meno, dell'impaginazione, 2, 5, 5, questa è un'impaginazione classica, però, voglio dire, c'è anche, dei vignetti orizzontali, molte più vignette orizzontali, il quadratino, no, c'è un'impaginazione, c'è un'impaginazione, c'è un'impaginazione divisa con righello in 6 scompartimenti, oppure in 5, mentre qui vedete che comunque c'è delle aperture verso un fumetto un pochino più alioso, un po' più di... quindi è all'incontro di un vecchio del, vabbè, del passato che viene sbernato, di sbernato e messo nel futuro. Molto belli disegni, molto bella la storia, per 4,40 euro, copertina di giardo spettacolare, questo va a presa, questo non lo so se va a presa, però, nel senso, se io, a volte, come dire, alcuni fumetti, come vedete, su Barone Racosi, sono rimasti piuttosto buoni, in forza, quindi poi ognuno, quando legge un fumetto, uno ci vede, cioè, uno ci vede, no, la parola capolavoro, lo risparmierei per pazienza, per quelle cose, un pochino più, più alte, però, è una bella storia, insomma, questa, il prossimo mese, torna, la rabbia di metallo, e poi, credo, poi ritornerà a Scotos, queste, in teoria, sono storie, un po' di, cioè, tra la saga di Scotos, cioè, che si è conclusa, in realtà, non si è conclusa, che poi deve proseguire, per me, sono storie riempitive, nel senso, però, nella sua riempitività, sono storie, forse a volte, dove c'è almeno, dove c'è almeno pressione, da parte di una serie, cioè, di fare la serie, di portare il personaggio storico, importante, quindi, secondo questi, va più, più sul, e qui c'è un po', per esempio, uno strizzatino d'occhio, a noi vecchi, perché qui si cita, tutta roba, che un 12, 13 anni, non sa male, che roba sia, Buck Roger, ma figuriamoci, Tex, beh, c'è Tex, nello spazio, giustamente, la Bonelli, ci poteva lasciare Tex, Little Nemo, Tarzan di Foster, Tarzan di Foster, cioè, c'è un sacco di roba, Red Run, che è poi il padre, di Nathan Neve, bella questa pagina, bella questa pagina, pagina 70, Orient Express, ecco, l'Oriente, suocchi, sai di riviste, c'è stato, 10 minuti, è ovvio che questa pagina, un 12, 13 anni, non dice niente, ma Orient Express, è una bella rivista, Edgar Jacobs, Black Mortimer, cioè, tutti i fumetti, in realtà, Black Mortimer, è roba degli anni 50, beh, Dumas, Buck Roger, Big Sleep, Chandler, il Grande Sonno, Fresh Gordon, Dr. Jack e Mr. Hyde, Tarzan di Foster, Little Nemo, e vabbè, Orient Express, Jules Verne, Cyborg, G, The Spirit, cioè, tutta una serie di fumetti, è una sorta di, se vi ci state un 5 minuti, a guardare questa paginetta, vi ci divertite, il pianeta è proibito, eccetera, quindi, è un bel anche il disegno, cioè, i disegni sono veramente spettacolari, non mi stancherebbe di dirlo, questo, per esempio, Rabonelli, fa delle cose belle, ma non riesce a comunicare a un pubblico giovane, quindi, poi, questi fumetti, anche belli, ce li dirigiamo a noi vecchiacci, e i giovani non si riegano, è un peccato, perché questo fumetto qui, avrebbe le caratteristiche, per arrivare a un pubblico più giovanile, rispetto a Tex Quiddler, che insomma, è il cowboy con la pistola, un po', mentre Nathan Neves, se con una strategia un pochino meno arcaica, antiviruviana, potrebbe, avrebbe, avrebbe, dovrebbe, dovrebbe, ci dovrebbe, potrebbe fare di più, e il ragazzo è bravo, ma non si impegna, si dice un tempo, ragazzi, le capacità ce l'ha, ma non si impegna, e così la ponente, le capacità ce l'avrebbe, ma non si impegna, e con questa frase, che è vergognosa, studio, passo e chiudo, perché non voglio fare un video lungo, 14 minuti mi sembrano, più che sufficienti, anzi, siamo quasi al buono, tempo c'erano i voti, sufficienti, insufficienti, sufficienti, più che sufficienti, no, ma questo è un, non derò un 10, ma solo un 9, ma diamo anche i 10, ma chi se ne frega, ma diamo anche i 10, ma dai, tanto non ci corre dietro nessuno,